Grazie a tutti. Porco Rosso, beh, semplice, lo sapete, è uno dei miei preferiti di sempre, però questa tier list sarà veramente scema secondo me perché, vabbè, comunque è uno dei miei preferiti, lo sapete, mi piace tantissimo il protagonista, mi piace tantissimo il sidekick che è Fio, bellissime atmosfere, ottime citazioni a Fellini, Miyazaki in una forma strepitosa, Musiche stupende, il combattimento finale è incredibile, un film leggero ma che allo stesso tempo rivela un risvolto inquietante non da poco, per me è S, totale. Grazie a Mondo Paolo per l'euro, sto punto per i tier list, va bene, va bene, chissà, chissà, comunque. Dunque, ovviamente è la mia tier list personale, poi c'è chi preferisce una cosa piuttosto che l'altra, quindi non prendetela se non cito i vostri film preferiti. Allora, questo... Cosa è la collina dei papaveri? Cazzo, sono piccini, poi con i titoli in Giappone, mi sembra la collina dei papaveri, mi sembra. Ok, allora, la collina dei papaveri, l'ho trovato un film a tratti interessanti, a tratti abbastanza noiosino. Ci sono stati dei cazzi nel produrlo, perché, come sapete, l'ha girato Goro, poi se ne ha voluto un po' impossessare il padre, poi ci sono stati dei problemi, c'è stato il terremoto, insomma, ci sono stati un sacco di problemi che hanno minato la produzione di questo film. Quindi il ritmo è un po' strambo e, ripeto, è un film interessante che però poteva dare molto, molto, molto di più. Quindi, per ora, io gli darei un C. È a metà. È a metà. Poi, vabbè, ero arrivato a... All'Aputa. Vabbè, tema, tema veramente figo, anche qui Miyazaki strepitoso. Non è uno dei miei preferiti, perché il ritmo è più, grazie a Pinzul per l'abbonamento, ritmo a volte... Ma stai facendo la tier list dei film Ghibli? Sì, 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 amore, sì. Anche io voglio farla. Eh, ho capito, però questa è la mia. Un attimino, amore. Perché F? F per il boomer. E il problema è il ritmo. Stavo dicendo che a tratti è davvero, davvero lento. Si prende troppo respiro. Ok la calma nell'osservare tutti i dettagli e i particolari, ma qui la calma a volte è un po' troppa e ne mina il ritmo. Comunque resta un film, a mio parere, clamoroso. Quindi io direi... Direi di dargli una A. Per me l'Aputa è da, sicuramente. Poi mi affascina molto questo suo... Non so nemmeno se definirlo steampunk, perché non è proprio così, anzi, praticamente... Ma non è nemmeno un cyberpunk, diciamo, è un futuro... Sì, non lo so nemmeno io come definirlo, però è tutto un mondo alla mia Zaki. Insomma, è fantastico. No, perché dovevo... Un dieselpunk. Io gli do A. Ok. Arriviamo a Kiki. Allora, Kiki. Kiki è un romanzo di formazione. Ok, romanzo di formazione, secondo me, per ragazzi. Il finale è un po' troppo tronco, secondo me. La parte iniziale è molto più interessante dello sviluppo. Ci sono delle scene sicuramente molto belle, come quella appunto del dirigibile. Però, però appunto, il finale tronco e un ritmo anche qui abbastanza altalenante me lo fa mettere in B. Però l'ho preferito... Cioè, qui la colina dei papaveri si sente che c'è stato proprio un problema nella produzione. In Kiki no, semplicemente Mia Zaki a un certo punto vira sul ritmo diverso e quindi il film ne risente. Ecco, però è carino. È un film godibile, carino sicuramente, ma non è uno dei miei preferiti. Totoro. La Totoro, vabbè, ha generato ovviamente il mito di Totoro, proprio della creatura, che è diventata la mascotta anche dello studio. È un rifacimento Totoro, ovviamente nel design sto parlando, di Panda Go Panda, la serie che fece scimmiottando pipi calze lunghe perché non gli davano i diritti per fare una serie su pipi calze lunghe. È molto autobiografico perché comunque c'è il racconto della malattia della madre di Mia Zaki. La scena col gattobus rimarrà nella storia del cinema sicuramente, però rimane un film per bimbi, ragazzini. Quindi ho preferito i film più maturi, più adulti di Mia Zaki. L'idombi, lo metto accanto a Kiki. Diciamo che la valutazione è pressoché lo stesso. Dovrei dargli A perché comunque ha creato il mito di Totoro, però io lo metto in B. Valuto il film più che altro, più che il lascito. Quindi diamoli B. La principessa splendente è assolutamente AS. Cioè è una roba clamorosa, una produzione difficilissima. È venuto fuori un racconto tradizionale giapponese e in tutto il suo splendore. L'atmosfera è senza tempo. È tutto poetico. Anche le canzoni sono veramente toccanti. Il finale è struggente. A livello tecnico è mostruoso. È stato animato da Dio. Il design è clamoroso. La scelta di disegnarlo come se fosse un inquioe continua. È splendida. La regia di Miyazaki non è mai stata così bella. È il testamento artistico di Takata. Ho detto Miyazaki, Takata, Takata. Cioè veramente si passa dal dramma alle scene divertenti, al romanzo di formazione, alla spiritualità, al fantasy. Si cambia sempre. Per me è clamoroso. Un'emozione continua. e volevo che non finisse mai. Only Yesterday. C'è quella nostalgia di cui si parlava prima. Non è uno dei miei preferiti, devo dire la verità, ma il mood generale e lo slice of life è sicuramente apprezzato. Quindi io lo metto al... Pompoco, Pompoco gli do A. Molti si lamenteranno sicuramente per questa scelta. Si, c'è l'agricoltura ganza. La principessa splendente è noioso. Sì, Pompoco lo metto in A perché mi ha stupito che io l'ho visto dopo Una tomba per le luccele. Così parliamo di tutti e due, intanto lo metto a S. L'ho visto, che per me è un film clamoroso, è un testamento proprio storico, importantissimo, da far vedere nelle scuole Una tomba per le luccele per far vedere tutti gli errori della guerra. Tra l'altro non è il retorico, che è una cosa che mi sta tremendamente sul cazzo nei film che parlano di guerra o di olocausto o di bombardamenti, insomma, quindi invece la tomba per le luccele riesce a essere drammatico, riesce a raccontare una storia e segue quella storia pedissicuamente, però allo stesso tempo sensibilizzare il pubblico agli orrori della guerra, quindi per me è capolavoro assolutamente. Per quanto invece riguarda Pompoco mi ha stupito vedere Taka'ata in una veste, diciamo, demenziale, però allo stesso tempo dietro a questa demenzialità c'è la storia di questo popolo di Tanuki che sono questi spiriti del folclore giapponese con queste palle giganti, mi ha stupito vedere Taka'ata che introduce tematiche ambientaliste in una storia comica, volendo, che però tanto comica poi alla fine non è. quindi Pompoco glielo do sicuramente gliela do sicuramente la fotopalle giganti. The Cat Returns La ricompensa del gatto è il film Ghibli che forse ho apprezzato meno e... sconnesso, sbilenco, proprio un film che non mi è piaciuto per niente, senza mordente, no, per me è forse l'unico... cos'è che cazzo... ispeziona a caso? L'unico film... sì, ciao... l'unico film che prenderà D probabilmente nella mia tier list. Questa è una tomba per le lucciole. Ok, dai ragazzi, è inutile... è inutile negarcelo, è inutile prenderci per il culo, La città incantata va in tier S. Non... non c'è versi, cioè non c'è proprio... non bisogna nemmeno parlarne, cioè rielabora a alcune storie americane importantissime di formazione, penso per esempio al Mago di Oz o Alice nel Paese delle Meraviglie, prende questi film, li assembla, li trasforma in qualcosa di nuovo grazie alla mentalità, al folclore e allo spirito giapponese e lo trasforma in La città incantata. Questa storia fantasy, stupenda, che è anche una grandissima allegoria del Giappone, contemporaneo, che poi non è molto cambiato dal 2001, è un Giappone estremamente consumistico, capitalista, l'inverosimile, e Miyazaki divertendo tutte le generazioni di pubblico possibile, riesce a esprimere i suoi messaggi sociali e politici attraverso una storia appassionante con personaggi memorabili, momenti toccanti, colpi di scena veramente fighi, e un'allegoria dopo l'altro, un film, dopo l'altra, un film che si potrebbe studiare per mesi, trovando sempre nuovi spunti per analizzarlo, quindi per me S, basta, grazie a signore, signor, sig, sig, per l'euro, il secondo è pompoco, che qualcuno mi chiedeva cos'è, questo è l'aputo e pompoco, Aul, no ragazzi dai, a me dispiace, mi sembra essere un fanboy, ma, S, dai, S, basta, che non, cioè a me forse piace più della città incantata, dirò una bestemmia, ma non, cioè qui è ancora più esplicito, mia zà, che contro la guerra, contro il governo, contro il potere, contro tutto, c'è questa storia d'amore che è fighissima, che si evolve, continuamente, la protagonista è una vecchia, che a poco poco cambia insieme a questo ragazzo, che cambia, ed è egoista, ed è anche egocentrico, è un po' fighetto, piano piano, piano piano cambia insieme a questa vecchietta, che in realtà nasconde qualcosa di più, viene, tutti i personaggi dicono qualcosa, ma si tengono dentro anche qualcos'altro, magari sanno chi hanno davanti, cerco di uno spoilerare, grazie a Iosef Uo, per l'abbonamento, magari sanno chi hanno davanti, ma non lo rivelano subito, per vedere che carte gioca, quel determinato personaggio davanti a loro, e, è pieno di idee, dal castello, in sé per sé, che sembra quasi, sembra il castello di un principe, e poi quando ti avvicini, in realtà è un ammasso di rottami, calzi, per questo spirito, che si fonde, ad Aul, in maniera indissolubile, per una ragione, che è molto più profonda, di quello che si crede, di quello che poi dimostra Aul, appunto un attacco alla guerra, all'inutilità della guerra, la scena splendida, di Aul contro la sua vecchia maestra, insomma ragazzi, un'idea dopo l'altra, un'allegoria anche lì dopo l'altra, perché la strega delle lande, è un'allegoria fantastica, ma anche lo stesso castello, lo stesso mondo di Aul è fantastica, e, fantastico, quindi ragazzi, per me Aul è da S, si sente il mare, gli do A, gli do A, perché è molto toccante, c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo lo slice of life, con il mare in Giappone, però diciamo, non è uno di quei film, che mi ricorderò, cioè no, in realtà no, è un film che mi ricordo, nitidamente, che mi è piaciuto molto, ma non arriva ai livelli, cioè non l'ho messo in S, solo perché, a livello S, ci ho messo questi 5, però è un A, assolutamente, no, a me è piaciuto, si sente il mare ragazzi, o forse mi sto confondendo, ti intendi pioggia di ricordi, ah è vero, scusate, 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 scusate ragazzi, ho sbagliato, sì, è quello, sì, sì, ho sbagliato, però l'ho messo, l'ho messo in, perché mi sono confuso così? comunque, l'ho messo in B però, pioggia di ricordi, allora forse, forse ho mischiato due film, allora questo lo metto, allora sì ragazzi, scusate, 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 pioggia di ricordi è uno dei meno conosciuti, non riesco bene a capire, ho fuso due film ragazzi, no, me lo ricordo nitidamente, era, è vero, è vero, sì, sì, ho sbagliato, ho sbagliato, non me lo ricordavo nitidamente, a quanto pare, cioè, è veramente uno, io proprio, l'ho riguardato ultimamente, chissà perché ho fuso due film, perché comunque sono due, che sono meno conosciuti, due fra i meno conosciuti, e due, che forse sono stati riconsiderati, no, secondo me perché sono tutti e due slice of life, e li ho confusi, beh, semplicemente perché, perché l'ho visi 600 anni fa, e non l'ho guardato, la versione Cannarsi, che invece ha guardato te, e quindi non l'ho ripassato, va bene, comunque sì, però non gli do, non so se dagli D, no, gli do C, gli do C, invece, il ricompenso del gatto, io l'ho messo, l'ho messo proprio all'ultimo, cioè, se ci devi mettere qualcuno per forza, sì, quello, sì, scusate ragazzi, scusate, mi sono un attimo confuso, quando c'era Marni, temore, io lo metterei in A, beh, bellissimo, quando c'era Marni, io lo metterei in A, Sì, perché è uno che, è uno di quelle che ho guardato di meno, sinceramente, lo vorrei anche riguardare, quindi, non, non, non potrei io metterlo in S, perché, non, non lo so, io me li devo riguardare, almeno due, tre volte i film, per, per capirli bene, 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 soprattutto questo, che è molto psicologico, cioè, tutta una roba, non lo so, a me, non, non convince, eh, tutta la, lo sviluppo centrale, alcuna, diciamo una parte dello sviluppo centrale, però, non si può dire che è un brutto film, no, forse A è troppo, però, eh, non lo so, però ci ho messo, ci ho messo un po' con l'A, putta, no, forse B, dai, forse B, no, no, l'A, putta ci ho messo A, a certi punti, è lentissimo, lentissimo, ah, ah, cazzo, è buono, dai, B, dai, Ari e T, Ari e T, è molto figo, è stata una sorpresa, perché è stata una sorpresa, non me l'aspettavo così bellino, ma poi è figa l'idea, cioè, è mega innovativa comunque, sì, cioè, è mega innovativa, magari no, però è figo che ci sia questo rapporto tra loro due, poi è tutta, è figa, no, è figa l'idea di loro, del popolo, ah, appunto, dico, io lo metterei in A, Ari e T, va bene, dai, sì, si lo metto in A, si alza il vento S, dai, vuoi spiassi, sì, S, si alza il vento anche io lo metterei in S, ho fatto un video intero, non mi ripeterò, S, ma non ho che, non ho che, S, dai, ma dai, è incredibile, è un capolavoro assoluto, ma non è uno dei miei preferiti, sinceramente, oh, io lo metterei in A, non in S, perché, è bellissimo, ma non è proprio per i miei preferiti, non ci posso fare niente, allora, per me è S assoluto, ragazzi, è capolavoro, dai, oh, allora, Terra Mare, allora, devo dire una cosa, no, mi do B, ok, no, sì, hai ragione te, perché ci sono, in B, ci sono altre robe, troppo importanti, Terra Mare, era, poteva veramente spaccare i culi, cazzo, poteva veramente spaccare i culi, e invece di una lentezza tremenda, stai lì che fai, porca troia, non va mai avanti questo film, e te vedi tutte queste idee sprecate, e, sì, è tratto dal libro, e ti girano i coglioni, perché era interessante, però, cazzo, è veramente, è purtroppo il suo porifero, è di una pesantezza, veramente assurda, no, dai, la metto in C però, no, S, assolutamente, a parte che, tecnicamente non è del Ghibli, perché è stato, è stato fatto prima della fondazione del Ghibli, ma, è stato poi integrato dopo nella loro filmografia, però, è splendido, ragazzi, è stato precursore, di 7000 cose, di tutto, di tutto, assurdo, quindi, pionieristico, seminale, a bestia, non è mai da S, ma cosa, ma dai, ma come palla assurda, ragazzi, no, qua non transigo, ragazzi, andate a leggervi la storia di Nausicaa, della sua produzione, di quello che ha apportato alla storia dell'animazione, del significato intrinseco di Nausicaa, l'ambientalismo, grazie a Matt, a Matt Wu, il fatto che sia apocalittico, e che racconti gli orrori dell'energia, non dell'energia nucleare, però delle armi nucleare, no, ragazzi, per me è S, ma poi in realtà è, come tu palla, è molto, anche, cioè, moderno, appunto, per le tematiche, nonostante sia un film, che trassurda proprio anni 80 da tutte le parti, a partire dalla musica, dalle canzoni, cioè, ma poi veramente, no, ma l'ultima scena, dai, con lei così davanti, no, no, bimbi, non, ma a parte la produzione, cioè, come dicevano alcune, è proprio bello il film, cioè, bello il film, poi, cioè, talmente, talmente bello, sì, è pieno, anche i silenzi sono assordanti, in quel cazzo di film, io lo, lo apprezzo tantissimo, meglio il manga, però, devo dire la verità, mi è piaciuto più il manga, quello non l'ho mai letto, bellissimo, c'è l'edizione inglese, che è clamorosa, prima o poi ricopro quello, c'è un giapponese, lo sono guardato, comunque, ci fosse tipo, una cosa più di S, secondo me, Nausicaa sarebbe anche, boia, no, ora, morirete, allora, Ponyo, Ponyo, dai, bellissima favola per bimbi, cioè, sì, è carino, no, è bello, però, ecco, non lo metterei in S, sicuramente, no, bellissimo a livello grafico, perché c'è tutta l'acqua, tu bellissimo, dai, quella cosa che è bellissima, cioè, non è S, io lo metterei in A, ah, dai, per me, dai, gli è riuscita più che altro una favola veramente, gli è riuscita una favola veramente, con i controcazzi a sto giro, i miei vicini di Yamada, il manga in italiano, c'è di Nausicaa, sì, è della Planet, quindi fatevi il sogno della Croce, se lo trovate, prendetelo subito, allora, i miei vicini di Yamada, ragazzi, i miei vicini di Yamada, l'ho visto, l'ho apprezzato, il problema grosso, e qui purtroppo lo devo dire, e lo devo mettere in B per questo, ragazzi, rendetevi conto, perché se no l'avrei messo in A, lo so, però io non ci ho capito una sega, cioè, allora, il film, l'ho compreso bene o male, ma è uno dei film, in cui Cannazzi si è sfogato di più, ragazzi, uno dei film in cui Cannazzi si è sfogato di più, ci sono delle parti incomprensibili, vabbè, allora, amore, anche mi piace di ricordi, è vero, è vero, ma nei miei vicini di Yamada è proprio scatenatissimo, quindi il film l'ho apprezzato, genio, ti ha scritto, anche Sub l'ha curato i Cannazzi, genio, vado di B, ok, i sospiri del mio cuore, i sospiri del mio cuore, io lo metterò in A perché mi è piaciuto quanto Pogno, sinceramente, anche a me è piaciuto il sospiri del mio cuore, se ho messo Pogno in A devo mettere in A anche il sospiri del mio cuore, che è bellissimo, dove è che l'hai messo la collina del papà? No, non giudico il film dall'adattamento, ragazzi, è che proprio certe parti non lo capite, cioè non lo capite, come fai scusa se non le capite? Cioè, ma ne è che lo capite, cioè sono incomprensibili, cioè affossano proprio il ritmo del film, affossano il film, affossano i dialoghi, affossano la sceneggiatura, è gravissima questa cosa, quando si parlava di Cannazzi tempo fa, non è che si parlava così per fare il meme, si parlava perché certe cose affossano proprio i film, esatto, purtroppo, cioè non è che puoi studiare il giapponese, guardarle in giapponese, se alcune cose non capisce, lo guarderò in inglese, lo guarderò in inglese, però sottotitoli, però vabbè, guardo con sottotitoli in inglese, ci capirò di sicuro, ci capisco di più, sì, comunque non ho visto dov'è che hai messo l'aculina, esatto, bravo Frizzone, bravo, siccome è un film, una commedia, una commedia demenziale, ci sono le battute, no? Se te mi affossi il ritmo, con delle cose incomprensibili, vanno a puttare anche le battute, le battute sono fondamentali in una commedia, in un film demenziale, non lo puoi fare, non puoi trasformarmi le battute in dialoghi incomprensibili, che poi le capisci i dialoghi, cioè alla fine è un italiano mega arcaico, tutto sbilenco, ma riascoltandolo più volte lo capisci, ma mi rovini proprio il film così, comunque, sarebbe stato A, ve lo dico. Stavo per dirlo, che mi non ti è in mente, ma meglio di no. Sì, sì, lo so, e nel sospirire il mio cuore c'è la traduzione di country road in italiano, però a me non dispiace, sinceramente. T'attenta, poi era quello che dici, dai. A me l'ho ascoltata, no, no, certo, certo. Sospirire il mio cuore lo metto in A, comunque, mi è piaciuto abbastanza, tanto, tanto, sì, 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 sì. Buono, finito. Io la collina dei papaveri la metto in B, non in C, la metterei. La collina dei papaveri è qui, amore, in C? La metterai in B, non in C? Ah, addirittura, no, io no, sono rimasto abbastanza deluso. No, a me è piaciuto molto il mio cuore. No, non lo posso mettere a livelli di Yamada, o Totoro, no, no, o Manni. Bene. Buongiorno. Buongiorno.